Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Emergenza Educativa. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. C'è bisogno di vero rispetto in giro perché ormai nella società manca. Tutti sono presi dall'egoismo personale e le regole non si rispettano proprio. A volte facciamo finta di non vedere le persone che incrociamo per strada, non le salutiamo. A volte non diamo un giusto rispetto, un buongiorno quando entriamo in qualche locale comune. Perché siamo presi da altre cose, da un culto di false credenze, da idoli strani, da cose che ci portano ad altro. Il culto dell'educazione dovrebbe essere la cosa peculiare, caratteristica in una società, perché una società educata è una società che va molto in alto. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo L'emergenza educativa. C'è bisogno di vero rispetto perché ormai nella società manca, dato che a tratti dal falso idolo, della teoria egocentrica diffusa. Il culto di false credenze ci ha portato ad annientare quelle belle e solidali parole che nel tempo ci hanno saputo educare. Il culto dell'io personale annulla il rispetto per gli altri e scatena una guerra flebile che implica inutili discorsi. L'emergenza educativa regna e si dovrebbe avere più rispetto per una società che dovrebbe vivere e regnare con le regole del giusto affetto. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.